Cosa chiedete oggi? Di fare questa sospensiva per domani perché io non so dove andare, mio marito tra l'altro non è a casa, io sono sola. Tra l'altro sto rinviando anche le mie chemio per poter venire quasi ogni giorno qui in tribunale per chiedere, per implorare, ciò che io non ho mai fatto in vita mia. Domani l'ufficiale giudiziario si ripresenterà alla porta di Maria e del marito Giovanni che rischiano così di vedersi portare via la propria casa a Cavriglia acquistata con un mutuo e dove vivono da 15 anni. Maria è malata di tumore ed invalida al 100%, anche il marito a sua volta è malato, soffre infatti di tetraparesi spastica. La famiglia nel 2014 non era riuscita a saldare le rate del mutuo contratto nel 2003, entrambi i coniugi erano infatti rimasti senza lavoro. C'erano o due o tre rate in sospeso che inizialmente io ho chiesto all'impiegata della banca di far attivare un'assicurazione che avevo stipulato. L'impiegata non l'ha fatto, ha mandato tutto a sofferenza, ha mandato tutto all'astrico sia a me che ai fideusori. Era così iniziata la lunga battaglia giudiziaria della coppia per non perdere la casa che in parte aveva già pagato. Presso il Tribunale di Arezzo sta infatti andando avanti un procedimento con il quale è stato chiesto il sequestro giudiziario dell'immobile stesso. La coppia inoltre nel 2014 aveva intentato una causa per usura nei confronti della banca. Si è emesso che nell'anno in cui la banca ha fatto pignoramento ci sono state delle equitanze pagate. Inoltre io dal sito del Tribunale sono riuscita ad avere la relazione tecnica fatta dal CTU, perché come ben si sa io ho ricevuto anche usura. Dal sito del Tribunale è emerso che la banca si è opposta di fornire documentazione. Voi quindi chiedete una sospensione? No, proprio un annullamento perché a quanto pare questa esecuzione è basata sul nulla. Come si può leggere dalla documentazione è basata su usura e rate pagate.